Noi diciamo dunque che il sangue è il veicolo particolare dell'ego. Ora, da miliardi di anni abbiamo continuato a cristallizzare la materia per formare il corpo denso. Dobbiamo ora eterizzare i nostri veicoli per elevarci, noi e il mondo, al di sopra della materia al fine di entrare nel regno dello spirito. Sotto tali condizioni è naturale che l'ego cerchi in primo luogo di rendere gassoso il suo sangue. Agli occhi del chiaroveggente questo sangue rosso nucleato non è un liquido, bensì un gas. Il fatto che pongendo la pelle il sangue coli allo stato liquido non inficia la nostra affermazione. Se apriamo la valvola di una macchina a vapore, il vapore acqueo che esce si condensa immediatamente. Se tale macchina fosse costruita in vetro trasparente e noi potessimo vedere quello che avviene all'interno, constateremmo che il pistone si alza e si abbassa come mosso da un agente invisibile, dal vapore vivo. E come questo vapore vivo invisibile è allo stato gassoso all'interno della caldaia, così il sangue è allo stato gassoso all'interno del nostro corpo. Più l'ego raggiunge lo sviluppo elevato e più diventa idoneo ad eterizzare il suo sangue. Quando sotto l'azione del corpo vitale gli alimenti raggiungono lo stato alchemico più avanzato, inizia il processo di condensazione e il sangue gassoso si trasforma in vari tessuti organici, in sostituzione delle cellule distrutte dall'attività del corpo umano. La milza è la porta di entrata del corpo vitale. Suo tramite le forze solari che abbondano nell'atmosfera dell'ambiente penetrano in noi in una corrente continua per aiutarci ad esplicare le nostre funzioni vitali. Ed è nella milza che avviene la lotta accanita fra il corpo vitale e il corpo del desiderio. I dispiaceri, il timore e la collera ostacolano il processo di evaporazione da parte della milza. Quando ciò avviene si forma un grumo di plasma di cui uno spirito elemento si impossessa facendone un nucleo nel quale si inserisce. Allora inizia la sua opera di distruzione, agglomerandosi ai rifiuti e alle sostanze in stato di decomposizione ovunque si formino. Questi spiriti elemento fanno del corpo umano un vero carnaio, anziché il tempio santo che dovrebbe essere, cioè la dimora dello spirito vitale interno. Da tutto ciò possiamo dedurre che ogni globulo bianco preso da un'entità estranea rappresenta per l'ego un'occasione perduta. Più vi sono nel nostro corpo queste impurità, meno l'ego ha il potere di governarlo ed è per questo motivo che questi globuli si trovano in numero superiore nelle persone malate rispetto a quelle sane. Possiamo anche affermare che una persona di indole gioviale o profondamente religiosa, con una sincera ed assoluta fede nella provvidenza divina e nell'amore di nostro padre, conterà meno occasioni perdute e il minor numero di globuli bianchi di coloro che hanno un carattere ansioso e che si irritano continuamente facendosi, come comunemente si dice, cattivo sangue. Perciò possiamo dire che il sangue è la sola parte del nostro corpo che ci appartenga veramente. L'ego possiede la facoltà di esprimersi mediante i suoi veicoli nella misura in cui dirige il corso del proprio sangue. Ed è solo per mezzo dei globuli rossi che l'ego è capace di agire. Ogni volta che ci abbandoniamo a pensieri negativi creiamo dei globuli bianchi che non sono i difensori del nostro organismo, come pensa attualmente la scienza, ma al contrario i suoi distruttori. Quando circola nelle arterie che si trovano nelle parti più profonde del nostro corpo, il sangue si trova, come abbiamo visto, allo stato gassoso, ma la perdita di calore sulla superficie del corpo lo fa parzialmente condensare. In questa sostanza, che non è più fluida, l'ego impara a formare dei cristalli minerali. Gli scienziati hanno recentemente scoperto che i cristalli del sangue variano a seconda degli individui, in modo tale per cui si può distinguere perfettamente, per esempio, il sangue di un nero da quello di un bianco. Verrà il giorno in cui si potranno notare delle differenze più sensibili, non solo fra il sangue degli uomini di razze diverse, ma anche fra quello di individui appartenenti alla medesima razza. Considerando la questione da un altro punto di vista, noi sappiamo che se viene agitato, il sangue si separa in tre parti distinti. Il siero, sostanza liquida simile all'acqua, elemento retto dal segno del cancro e dal suo maestro, la luna, gerarchie lunari. La sostanza colorante rossa, marziana, generata dal segno dello scorpione. E infine, ed è forse questo l'elemento più importante, la fibrina, una materia fibrosa governata dal terzo segno d'acqua, quello dei pesci. Quando l'essere umano in formazione aveva uno scheletro esterno, la sua coscienza era poco attiva, come lo è quella del crostaceo dentro la sua conchiglia. Via via che lo scheletro penetrava gradatamente all'interno del corpo, si sviluppava via più il nostro stato di coscienza. Per mezzo dell'intervento del sangue, l'ego ha spiritualizzato questo scheletro interno, dal quale estraiamo la quintessenza di tutta la conoscenza acquisita nelle epoche passate, cosa che costituisce il nostro potere animico. Questo potere sarà pienamente utilizzato durante il periodo di Giove. Sarebbe azione criminosa contro il nostro spirito, opporsi a tale compito. Siccome la donna è dotata di un corpo vitale positivo, sviluppa prima dell'uomo le parti del corpo che restano simili alle piante, quali i capelli che crescono più lunghi ed abbondanti. Naturalmente il corpo vitale positivo produce più sangue di un corpo vitale negativo maschile. Quindi la donna ha una maggiore tensione sanguigna che il flusso mestruale riduce periodicamente. Dopo la menopausa la donna subisce un nuovo slancio vitale. Si ha una nuova crescita, l'appesantimento della quarantina. Gli impulsi del corpo del desiderio fanno circolare il sangue nel corpo a velocità che variano a seconda della potenza delle emozioni. La donna possiede sangue in eccesso, a una maggior tensione dell'uomo ed anche se il flusso periodico le apporta sollievo di tanto in tanto, le occorre altro mezzo di distensione che le viene procurato dalle lacrime. Le lacrime sono come un salasso bianco ed hanno la funzione di valvola di sicurezza. Sebbene l'uomo sia in grado di provare forti emozioni allo stesso modo della donna, non è soggetto alle lacrime in quanto egli non ha sangue in eccesso. Attualmente il sangue non ha la stessa composizione che aveva agli albori dell'evoluzione umana. Lo spirito del Cristo discese entro il corpo di Gesù al momento del battesimo. Al momento della crocifissione lo spirito di Gesù abbandonò il suo veicolo fisico ed ebbe la missione di servire la Chiesa, mentre il suo corpo vitale fu utilizzato per l'insegnamento diretto da parte di Cristo. Il sangue di Gesù deve servire da apriti sesamo del regno di Dio. Quando una persona viene uccisa il sangue venoso con tutte le sue impurità rimane attaccato alla carne, perciò il sangue arterioso che cola fuori del corpo è molto più puro del solito. Il sangue purificato di Gesù fu eterizzato dallo spirito eletto del Cristo e diffuso sul mondo, offrendo così agli uomini la possibilità di attingere a nuove fonti per poter sviluppare nella propria natura il desiderio e il bisogno dell'altruismo. L'astrologia esoterica non ignora che il corpo umano si evolve da tempo immemore. Questo splendido organismo è il risultato di un lungo lavoro costruttivo che perdura senza interruzione e che fa sì che ogni generazione che segue sia migliore della precedente. In un lontano avvenire il corpo umano raggiungerà un grado di perfezione del quale ora non abbiamo nemmeno l'idea. Gli occultisti li definiscono corpo vitale fatto di etere e corpo del desiderio fatto di sostanza desiderio, materia dalla quale estraiamo sentimenti ed emozioni. Occorre aggiungervi l'involucro dell'intelletto o mente. Questi tre veicoli, unitamente al corpo fisico, costituiscono quella che definiamo la personalità, parte vanescente distinta dello spirito immortale che si serve di questi veicoli per esprimersi. I corpi più sottili compenetrano il corpo fisico denso, così come l'aria compenetra l'acqua. Essi esercitano un dominio su alcune parti del corpo denso che è il prodotto della loro cristallizzazione e che si crea secondo lo stesso procedimento con cui la lumaca forma la conchiglia silicea che porta sul dorso. Generalmente parlando possiamo dire che le parti molli del nostro corpo, cioè la carne, si possono dividere in due gruppi, ghiandole e muscoli.